La prima cosa che mi fa felice di essere qui è di essere in Polonia, per me è la prima volta e quindi già questa di per sé è un'emozione. La seconda cosa è che sono qui grazie alla musica, che è un mio modo di esprimermi, non certo l'unico modo ma uno dei modi principali per l'espressione delle mie emozioni, del mio interiore e sono contento di avere questa opportunità, questo festival di fare questo, quindi di portare una mia canzone in inglese, io ho scritto la musica, un amico mi ha aiutato a scrivere il testo.